Hai una casa a radiatori e vuoi sfruttare il super bonus per trasformarla in 100% elettrica ma immagino che tutti quelli che hai già sentito ti avranno detto no guarda, non puoi usare una pompa di calore se hai un impianto a radiatori ma questo non è vero e oggi scopriremo perché Ciao, vuoi sfruttare il super bonus per trasformare la tua casa in 100% elettrica però tutti ti sconsigliano di farlo, quindi tutti ti sconsigliano di installare una pompa di calore sull'impianto a radiatori ma c'è una semplice tecnica per verificare se il tuo impianto a radiatori può essere utilizzato anche con una pompa di calore e la tecnica è la seguente, basta sommare la potenza termica di ogni singolo radiatori e verificare che la somma delle potenze termiche sia uguale al fabbisogno del tuo edificio con la nuova temperatura di lavoro, cioè con i radiatori che non lavorano più a 70 gradi ma lavoreranno a 55, 60, 65 gradi è importante verificare se la potenza che erogano è uguale al fabbisogno termico dell'edificio punto quindi basta fare una semplice equazione che qualsiasi termotecnico è in grado di fare infatti abbiamo già visto in altri video che la potenza del radiatore cambia al variare della temperatura dell'acqua che ci metti nel radiatore mi spiego meglio, se un radiatore è a 75 gradi avrà una potenza maggiore rispetto a un radiatore che lavora a 55, 60 gradi però a 55, 60 gradi il radiatore lavora lo stesso e quindi andiamo a calcolare la potenza di quel radiatore con quella nuova temperatura la sommiamo a tutti gli altri radiatori e poi andiamo a confrontarla con il fabbisogno termico dell'edificio in caso negativo, cioè nel caso in cui la potenza erogata dai radiatori sia inferiore, sia più bassa rispetto al fabbisogno dell'edificio si possono aggiungere degli elementi ai radiatori, cioè si possono ingrandire i radiatori affinché la potenza sia quella che vogliamo quindi ad esempio se hai un radiatore tubolare in acciaio puoi aggiungere degli elementi per allargarlo oppure per lavorare in profondità affinché la potenza sia quella richiesta se però hai dei radiatori sotto nicchia dove non è possibile allargare il radiatore beh in quel caso ti consiglio di tirar fuori il radiatore dalla nicchia, tamponare la nicchia e poi utilizzare un radiatore nuovo magari di ultima generazione per poterlo far lavorare a 50, 55, 60 gradi ovviamente tutto questo vale se utilizzi una pompa di calore di tipo professionale cioè una pompa di calore che è idonea per lavorare alle alte temperature che è stata progettata per lavorare su impianti a radiatori quindi che ti dia un COP decente anche a 65, 67 gradi ecco mi raccomando questo lo do per scontato e se hai deciso di sostituire il tuo impianto a radiatori sei fortunato perché con il super bonus c'è un budget a tua disposizione di 50 euro al metro quadro riscaldato che non è per niente male per sostituire i tuoi radiatori e metterne di nuovi ad alta efficienza per poter lavorare bene con la pompa di calore se invece hai deciso di sostituire completamente l'impianto quindi passare da un impianto a radiatori a un impianto a pavimento è ancora meglio perché? perché ci sono a disposizione 150 euro al metro quadro per poter trasformare il tuo impianto e passare un impianto a pavimento grazie al super bonus del 110% ovviamente io prediligo la possibilità di utilizzare l'impianto esistente quindi senza stravolgere l'abitazione senza dover intervenire, andare fuori di casa ecco questa è la migliore delle ipotesi dal mio punto di vista beh a questo punto se hai domande specifiche per il tuo caso scrivele nei commenti qui sotto e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale youtube per riceverne anteprima tutti i miei prossimi video grazie a tutti